E ci sono anche loro, non sono arrivati in testa alla classifica, però ci sono e questa è la cosa più importante. Ma l'importante è non aver mangiato l'acciuga. Che denota l'ultimo classificato. Allora, edizione 2019, che cosa vi resta nel cuore? Beh, è stata una bella giornata, sia come temperatura che come partecipazione di tutti, anche di persone che hanno casa qui e che non venivano da anni. Quindi è stata proprio una bellissima giornata di incontro tra amici. Alla fine cosa c'è di più bello? È la festa di chi torna, ma è anche la festa dei giovanissimi. Tu sei il corridore più giovane. Sì, è stata una bella gara, si poteva far meglio, però alla fine è sempre l'asino che decide quanto andare. Rapporto con gli asini, com'è? È difficile, perché una buona dose è fortuna. Perché sarebbe meglio prendere un asino più veloce, anche più determinato. Molti arrivano e sembrano stanchi, addormentati e quando poi ti ritrovi a fare la corsa non vanno avanti. Che segreto utilizzi tu? Ma nessuno in particolare. Faccio quello che devo fare, spingere o incitare, niente di più. Sempre con benevolenza. Certo.